La Pepto Pro sarà il primo di una serie di prodotti che Colors Nutrition con la mia collaborazione porteremo sul mercato, prodotti tecnici, prodotti che funzionano. Ma perché la Pepto Pro? Perché la caseina neutralizzata? La caseina neutralizzata si presenta in forma di etripeptide, ha un peso molecolare bassissimo per cui ha una velocità di assorbimento estremamente alta, un assorbimento molto più rapido di anche una lactalbumina neutralizzata, per cui ha il modo più veloce per portare degli aminoacidi dei peptidi nel sangue, è un assoluto bisogno per qualsiasi bodybuilder oggigiorno e chi non lo sta ancora usando, sta perdendo una grande opportunità di costruire massa muscolare molto molto efficacemente.